Qual è il ruolo della vostra organizzazione sindacale nei paesi baschi e come questo si intreccia con il contenuto sociale dell'idea di autodeterminazione del popolo basco? Quali sono le caratteristiche, i dettagli della vostra organizzazione e come si tratta con il processo di autodeterminazione e il contenuto sociale nel popolo basco? Prima di tutto, è necessario raccontare che nel popolo basco non solo la situazione politica ma anche la situazione sociale, economica e laborale e la situazione del trai unionismo è molto diversa se compare con il resto del paese spagnolo. In spain, trai unioni come Comisiones, Obreras e UGT hanno circa 90% di rappresentazione, quindi sono in maggioranza, ma solo in basco, sono in minoranza. In basco, la maggioranza delle basque trai unioni ha circa 65-70% di rappresentazione di basco. basco, basco, basco trai unioni, specialmente la trai unioni e una altra trai unioni che supportano la self-determinazione per il nostro paese in maggioranza. Perché ogni 4 anni c'è un'election, i maggiori dei lavoratori votano per il nostro trai unioni. And the difference between the spanish trade union is not only about the issue of self determination right, I mean that we support this self determination right for the Basco country and they do not support that, but is also another main point, is the kind of trade unionism that we support. Spanisch trade union speak of social dialog, they are members of the ETUBC e sono conciliato, e in nostro caso, le basque trade unioni, specialmente LAB, la mia trade unioni, defendiamo il class-orientato trade unionismo, siamo membri della federatione delle trade unioni, che significa che siamo molto critici del sistema del capitalismo, e noi practiciamo trade unionismi, che è counter-powering trade unionismi, e sociopolitica trade unionismi. perché LAB era creato in 1974, la franco-dictitazione era in Spagna, e alcuni basque lavoratori hanno deciso di creare una trade union, per combattere i due problemi, la liberazione nazionale e la liberazione sociale. Per questo, la principale caratteristica della trade unioni è che siamo membri del pro-indipendente movimento, e crediamo che stagiamo per l'indipendente del nostro paese, ma anche per il socialismo del nostro paese. per l'indipendente 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 del nostro paese.